ok dopo aver visto in generale le grandezze fisiche e la misura delle grandezze fisiche oggi ci occupiamo di un concetto molto importante in fisica quello di vettore che è la caratteristica di molte grandezze fisiche di cui tratteremo allora immaginate di facciamo un passetto indietro immaginate di dover pesare o misurare la massa di un corpo immaginiamo una scatola allora prendiamo una bilancia qui c'è l'indicatore dice il piatto della bilancia e mettiamo questa scatola sopra la bilancia diciamo la massa m d'accordo cosa otteniamo otteniamo un numero del lettore leggendo l'indicatore del della bilancia leggeremo che ne so facciamo l'esempio 200 grammi dico per dire ok con quindi il valore della lettura il valore dell'unità di misura l'incertezza che sarà la sensibilità dello strumento se io prendo la mia scatola che è la ruota o la sposto o la cambio di posizione sempre sulla bilancia la lettura della massa non cambia ok quindi la massa è completamente specificata da un solo numero con unità di misura quando questo accade e quando misura una grandezza fisica e la sua misura è completamente definita da un numero accompagnato dalla sua unità di misura dico che questa è uno definisco queste come degli scalari gli scalari sono grandezze fisiche completamente definite da una sola un numero con la misura con unità di misura per esempio sono scalari la massa il tempo il volume quindi anche la densità altre misure come ancora visto come la pressione per esempio ma vedremo a breve la temperatura eccetera ok ma immaginate adesso di cambiare situazione pensate di trovarvi in questa posizione questo punto chiamiamolo o e di ricevere questa istruzione spostati di due metri oppure comunicate a qualcun altro mi sono spostato di due metri questa informazione non è sufficiente a individuare il punto dove andrete a trovarvi dopo lo spostamento quindi sia uno spostamento di due metri non so dov'è la posizione finale potrebbe essere in un cerchio qualunque in un punto qualunque del cerchio che abbia raggio due metri posso trovarmi dovunque su questo centro per definire dove mi troverò alla fine dello spostamento ho bisogno di sapere in che direzione mi sono spostato mi prendo una retta che passa per il punto di partenza questa mi dà la direzione scusate lo scrivere un poco meglio che comunque mi lascia due punti dubbi potrebbe essere in questo punto in questo e poi devo definire il verso se verso il punto che chiamiamo a oppure il punto che chiamiamo b quindi questo definisce il verso quindi lo spostamento è una tipica grandezza che non può essere specificata solo da un numero con unità di misura per sapere lo spostamento è dove vedremo un po più avanti un po meglio il cambiamento di posizione la mia posizione è cambiata da o a un'altra posizione ma per sapere qual è la posizione finale devo definire quindi lo spostamento fornendo cioè devo dire di quanto mi sono spostato definendo la lunghezza dello spostamento cioè in questo caso di quanti metri la direzione cioè lungo quale retta mi sono spostato e in quale verso quando una grandezza a comporta tutte queste informazioni quando una grandezza è caratterizzata da queste informazioni non solo da una intensità allora la chiamo che per essere completamente definita ha bisogno di tre enti uno che dice quanto intensa questa grandezza cioè la sua lunghezza intensità o modulo sono tutti sinonimi una direzione e un verso questo è quello che caratterizza i vettori un vettore tipico è uno spostamento c'è una domanda prego no attenzione lo spostamento è un esempio di vettore non tutti i vettori sono solo spostamenti esistono grandezze che sono vettori ma non spostamenti per esempio c'è per esempio lo spostamento ma anche la velocità che vedremo più avanti ma anche le forze tutto ciò che ha a che fare con una direzione ed un verso non solo intensità quando l'intensità non mi basta sto parlando di vettori un utile modo per rappresentare un vettore per raffigurarselo è una freccia o meglio ancora un segmento per essere più tecnici orientato che cosa se io disegno una freccia fatemi disegnare che ne sono in rosso ecco cosa faccio? faccio un segmento dove congiungo due punti A e B e in uno dei due punti metto la punta ok quello dove non c'è la punta prende il nome di origine l'altro è la punta del vettore dimmi certo tutto ciò che in fisica è rappresentabile rimediante delle frecce sono vettori i vettori si possono rappresentare agevolmente con delle frecce dimmi adesso ci arriviamo di nuovo allora un vettore si può rappresentare come una freccia che cos'è che caratterizza una freccia? cioè per disegnarla di cosa ho bisogno? beh ho bisogno di sapere quanto lunga è la freccia quindi quant'è questa distanza questa è la lunghezza che può essere indicata anche come un'intensità del vettore oppure il modulo del vettore ho bisogno della retta sulla quale il vettore si trova quindi questa in nostro caso la rete sulla quale si trova mi dà la direzione e poi il verso cioè in quale dei due punti in questo si trova la freccia se per esempio da A a B o da B ad A in questo caso vengono distinti ok c'è un'altra domanda la massa non ha una direzione l'abbiamo appena visto se io devo misurare la massa di un oggetto non ha importanza come l'oggetto è orientato la sua massa è sempre quella il volume di un corpo non ha direzione qualunque orientazione abbia il corpo il volume è sempre lo stesso ma se io ti dico di spostarsi di spostarti di 10 metri e non ti dico dove andare tu non hai informazioni sufficienti per eseguire lo spostamento devo dirti di quanto spostarti in che direzione e in che verso c'è un'altra domanda quindi gli scalari sono l'opposto sono esempi di grandezze fisiche che richiedono meno enti per essere specificati non sono l'opposto qui o meglio possiamo definire questo fatemi scrivere anche questo cambiamo pagina le grandezze fisiche sono n o almeno quelle che considereremo noi si dividono in due grandi famiglie gli scalari e i vettori gli scalari sono tutti quelle grandezze fisiche che hanno bisogno solo di un numero con unità di misura i vettori sono quelle grandezze fisiche che per essere specificate un solo numero con unità di misura non basta hanno bisogno di intensità direzione e verso come per esempio lo spostamento come per esempio le forze se ti dico di spingere l'armadio e non ti dico in che direzione in che verso spingerlo tu non sai dove vuoi come spingere l'armadio se ti do solo intensità non è sufficiente a specificare quel tipo di grandezza qui abbiamo quindi due grandi grandissime categorie in cui si deve dividere le nostre grandezze fisiche i vettori e gli scalari entrambi importanti entrambi con caratteristiche diverse se io ti dico per esempio che la temperatura oggi è di 10 gradi non devo specificarti altro perché tu sai che se vai lì col termometro troverai 10 gradi ok invece se ti dico che il vento è di 10 nodi tu non sai da che parte tira il vento devo anche dirti la direzione e il verso del vento quindi devo specificarti la velocità del vento per definire completamente quella grandezza fisica perché il vento è aria che si sposta quindi lo spostamento che è un vettore ha bisogno non solo di un'intensità ma anche di una direzione e anche di un verso che quindi per esempio se dobbiamo disegnare una freccia appunto ho bisogno di sapere quanto è la lunghezza della freccia e poi di sapere se la freccia va da A a B oppure da B ad A fatemi disegnare l'opposto ecco normalmente una volta che ho fissato la lunghezza e la direzione i versi possibili sono due appunto o A precede B o B precede A in ogni caso si prende il segmento cioè le due lettere latine che individuano gli estremi gli si mette sopra una freccia questo è un segmento orientato ok la freccia va sempre da sinistra a destra e quindi se in questo con questo simbolo indico il vettore che va da A punta a B freccia invece se indico B A indico il segmento opposto questi due vettori sono l'uno l'opposto dell'altro cioè hanno la stessa lunghezza stessa direzione ma versi opposti quindi la posizione della punta è invertita ok altra domanda di solito si usano per il simbolo e la freccia a destra e conversano le lettere si si normalmente non si scrive mai così questo non si usa un altro un altro modo di indicare i vettori è usando un simbolo una lettera latina maiuscola o minuscola per esempio una B con la freccia sopra anche questo è un vettore d'accordo quindi tecnicamente immaginatevi proprio raffigurate di una freccia e immaginate tutte le proprietà che può avere questa freccia quella è una buona modello per pensare un vettore però i vettori differiscono per una o più delle grandezze che li caratterizzano cioè l'intensità la direzione e il verso ok per riuscire a maneggiare i vettori quindi a eseguire operazioni con questi normalmente cosa si fa si usano i vettori unitari che prende il nome di versore mi spiego meglio prendiamo per esempio sempre lo spostamento di prima facciamolo comodo facciamolo orizzontale ok questo è nostro da A a B quindi questo è il nostro vettore prego certo il versore è il vettore unitario cioè lungo 1 perché beh perché se ho il nostro vettore A B questo posso immaginarlo come quindi se penso allo spostamento fatemi disegnare in verde posso dividere questa parte in tanti piccoli frazioni di spostamento e queste le prendo come unità quindi prendo un vettorino piccolo che chiamo U vettore unitario e dico per esempio che il mio vettore A B è uguale è a 1 2 3 4 5 7 volte U la lunghezza di U in questo caso viene rappresentata in questo modo con le due barre verticali si dà l'intensità o la lunghezza di U diciamo che U è lungo un metro quindi lo spostamento A B è 7 volte uno spostamento lungo un metro qui U è orientato verso destra quindi qui abbiamo sempre intensità direzione verso e quindi A B e U sono uno multiplo dell'altro quindi uso il versore questo è un versore che mi serve per costruire vettori diversi che normalmente per ricordarsi che il versore ha lunghezza unitaria anziché la freccia gli si mette sopra un cappuccio quindi più correttamente avremmo dovuto scrivere il vettore A B è 7 volte il versore U d'accordo? quindi troppo il versore sarebbe U esatto un vettore unitario posso chiamarlo che in tanti modi è a seconda cioè non abbiamo solo un unico versore chiaramente se cambia l'orientazione del vettore cambierà anche U ok se torniamo all'esempio di prima se questo è il nostro versore unitario il nostro versore è fatto così ok eccolo qui questo è il nostro U se uso ho un altro vettore che è questo che va a sinistra ecco questo chiamiamolo CD qui abbiamo 1 2 3 allora il vettore CD è sì 3 volte U però nel verso opposto quindi qui ci sarà un meno quindi il verso è opposto opposto a quello di U ok mentre se avessi che ne so un C F CE uguale a più 3 U allora questo è un vettore che se questo è U 1 2 3 questo è il nostro CE perché l'orientazione è la stessa di U stesso verso e stessa direzione ok dimmi quindi quando il vettore e il versore hanno lo stesso verso è più esattamente esattamente il segno del multiplo dice ci dà informazioni sul verso ok invece per esempio attenzione a questo punto che è notevole attenzione se questo è il nostro U ok ah sì fatemi fare il cappuccio appunto questo vettore B C non è multiplo di U questo metri che siamo due metri non è due volte U perché hanno direzioni diverse ci stanno su rette diverse la direzione di un vettore ha a che fare con la retta sulla quale si trova quindi la direzione del versore U è questa qui fatemi disegnare in verde la direzione del vettore BC è questa retta qui quindi le due direzioni sono rette diverse per cui non ne posso più dire che BC è due volte U anche se BC è lungo due metri immaginate che questo la lunghezza sia due metri mentre U è un metro come lunghezza però è falso dire che BC è due volte U perché non hanno la stessa direzione invece prima sì CE è tre volte U perché CE sta sulla stessa retta nella quale si trova U oppure in rette parallele se ho due vettori che hanno sono su rette parallele quindi per esempio fatemi mettere se questo è il nostro U e questo è il nostro che ne so potremmo fare tre volte tanto ecco AB 1 e 2 3 che questi sono la lunghezza di 3 metri e questa la lunghezza di un metro allora posso dire che AB è sì tre volte U perché sono paralleli cioè il vettore AB è parallelo dire che un vettore in questo caso AB è multiplo di un altro significa dire che ha la stessa direzione cioè stanno su rette parallele o la stessa retta o rette parallele se poi il multiplo è pari cioè scusami è positivo il verso è lo stesso se il multiplo è negativo i due versi sono opposti questo ci dà un vantaggio perché immaginate di avere due vettori due spostamenti ab sia più tre volte u e cd sia più due volte u possiamo immaginare il vettore somma ab più cd in questo caso abbiamo il vettore come se fossero degli spostamenti il primo spostamento è di tre metri verso u quindi più tre u e il secondo è più due sempre nel verso di u qui questi due spostamenti sono paralleli sono paralleli perché hanno entrambi il verso di u quindi se il primo ab è questo questo è ab poi ho cd lo fatelo disegnare attaccato perché è più semplice quindi in totale avrò un vettore somma chiamiamolo s che varrà 3u più 2u fa 5u ci sarà 5 metri nel verso di u qui c'è una utile simulazione fatta dall'università del colorado negli stati uniti a boulder che illustra proprio questo adesso ve la mostro il sito si chiama ph et ok è una delle applicazioni delle simulazioni è proprio l'algebra la somma dei vettori e qui ci dice andiamo a lavorare in una sola dimensione qui abbiamo il foglio quadrettato se riuscite a vederlo qui a destra abbiamo vettori diversi ne prendo uno lo metto per esempio a partire dall'origine eccolo qua ecco un po' più corto ecco questo vettore vedete in altro è lungo 5 unità qui ogni quadretto corrisponde a 1 se trascino più verso destra posso allungarlo che è lungo 10 poi ne prendo un altro vettore b lo metto ecco di seguito ad a devo spostare ecco così e b è lungo 5 se adesso ne faccio la somma i due vettori sono vedete paralleli stanno sulla stessa direzione se adesso ne faccio la somma fatemi fare un po' discostata vedete che è un vettore che ha la lunghezza di a più quella di b nello stesso verso e quindi sarà lungo 15 d'accordo? prego se sarebbe sempre 15 si anche se a b fossero paralleli sulla stessa si certo posso anche immaginare di mettere b qui la somma è sempre 15 posso un vettore posso spostarlo basta che lo sposto parallelamente a se stesso posso applicarlo dove voglio la somma non cambia ok se invece attenzione fatemi togliere la somma se invece io dico beh b però invece che andare a destra va a sinistra fatemelo mettere qua sotto ecco questo si fisicamente vorrebbe dire che io faccio mi trovo nel punto 0 faccio 10 metri a destra poi torno indietro di altri 5 metri in questo caso la somma è quel vettore che va da 0 a 5 metri perché? perché il vettore b ha sì la direzione del vettore a ma il verso opposto in questo caso sommare due sommare due vettori di verso opposto significa fare la differenza delle loro lunghezze entrambi paralleli però allo stesso vettore unitario ok? lo stesso nel verso contrario se io penso cambio verso anche ad a eccolo qui ecco e ho b nel verso opposto allora a e b tutti e due puntano verso sinistra e sommare a più b significa ottenere un vettore che va da 0 a 15 ma verso sinistra c'è una domanda? sì dimmi sì sì l'unità è sempre più u verso destra però a vale meno 10u b vale meno 5u la loro somma sarà meno 10 meno 5u cioè meno 15u certo allora se invece io prendo l'unità verso sinistra allora è sempre più 15u però qui in questo senso il verso positivo è quello a destra vedi che a sinistra ho i numeri negativi posso definire il versore come mi è più comodo cioè posso orientarlo come meglio mi serve ci siamo fin qua ok? quando ho due vettori che hanno la stessa lunghezza ma versi opposti come in questo caso a e b la somma è un vettore nulla perché a e b tra virgolette si cancellano perché se faccio 10 metri a destra e poi 10 metri a sinistra torno nel punto di partenza eccolo qua immaginate questi due vettori prima faccio lo spostamento a destra di 10 metri poi torno indietro a sinistra di 10 metri sono nel punto di partenza quindi il vettore somma il vettore complessivo il vettore spostamento totale è nullo perché ho due vettori opposti come nei numeri nei numeri in aritmetica due numeri sono opposti se la loro somma è 0 qui anche qui due vettori sono opposti se la loro somma vettoriale è 0 cioè se hanno 1 la stessa intensità la stessa direzione dell'altro ma hanno versi opposti per cui uno cancella l'altro in qualunque direzione io vada se io mi sposto di 10 metri in avanti e poi nella stessa direzione vengo 10 metri indietro torno al punto di partenza quindi lo spostamento complessivo è nullo cioè lo spostamento somma è tale che il punto di partenza e il punto di arrivo del mio vettore sono lo stesso punto cioè l'origine ok altra domanda sulla stessa direzione ho sempre due sole possibilità di scegliere il verso certo altre domande ok quindi qui abbiamo visto che se quindi torniamo alla nostra lavagna se abbiamo versori un vettore scusate multipli dello stesso versore la somma vettoriale questa è una somma vettoriale attenzione diventa una somma algebrica diventa una somma algebrica basta che sommo i multipli dello stesso versore ok quindi è abbastanza facile in questo caso tenendo conto del fatto che posso avere anche vettori di segno opposto ok se io facessi per esempio come abbiamo visto prima facciamo l'altro esempio se ho ab che è più tre volte u e poi ho cd che è meno due volte u è chiaro che la somma questo è il vettore somma s che è formato da ab più cd sarà uguale a più tre volte u meno due volte u quindi sarà più una volta u perché i due vettori hanno la stessa direzione ma versi opposti uno va a destra e uno va a sinistra quindi è chiaro che il vettore somma ha come intensità la differenza dell'intensità perché è fatto da due vettori che hanno versi opposti attenzione non posso dire che ab e cd sono opposti perché hanno sì versi opposti ma hanno intensità diverse due vettori sono opposti se chiamiamoli a e b il vettore a più il vettore b dà come somma lo zero quindi se ho per esempio a che vale più 5u quindi questo è il nostro a il vettore b sarà meno 5u quindi avrà la stessa lunghezza stessa direzione ma verso opposto quindi questi ripeto questi hanno stessa intensità stessa direzione perché stanno sulla stessa retta ma verso opposto potremmo scrivere in blu in particolare l'intensità del vettore a per esempio si indica in questo modo e se a vale più 5u allora questo numero usate l'intensità di a è più 5 mentre b che vale meno 5u ha un'intensità di più 5 perché l'intensità dà la lunghezza del vettore mentre il meno davanti ne dà il verso ok per questo hanno la stessa intensità il verso è indicato dal segno meno davanti al 5 che poi se uno spostamento sarà 5 metri d'accordo o meno 5 metri ok la prossima volta vedremo come ci dobbiamo comportare se in generale i vettori non hanno la stessa direzione cioè se a è fatto così questo è a e questo è b hanno direzioni diverse come facciamo a sommarli vediamo in che modo si riesce a costruire e a misurare il vettore somma ma per oggi ci fermiamo qui a a Grazie a tutti.